Natale Salucci, per domani avete organizzato un evento artistico con la collaborazione di chi e a quale scopo? Sono diversi artisti gelesi che hanno sposato la causa dell'Associazione Orizzonte per la giornata, la serata in questo caso, dove presenteremo gli atleti che andranno a disputare i play games in Basilicata. Saranno circa 30 gli atleti che parteciperanno nella manifestazione di Basilicata nella disciplina del nuoto, dell'atletica leggera e delle bocce. In quell'occasione siamo contenti di un'intesa collaborazione con Club La Vela che hanno messo a disposizione le loro strutture per continuare anche gli allenamenti in estate, anche perché a luglio abbiamo una manifestazione nazionale di tennis a tavolo e quindi alleneremo i ragazzi nella loro struttura. Per voi è molto importante che questi atleti acquistino e conquistino la loro indipendenza. Avete nuovi atleti, nuovi ragazzi che partiranno da soli per la prima volta? Sì, questo è un programma graduale che noi applichiamo con i nostri atleti e sono diversi gli atleti non solo di Gela, ma anche abbiamo alcuni atleti di Vittoria che partono con noi senza i genitori. I genitori quando vogliono partire vengono come spettatori, i ragazzi vengono gestiti interamente dall'associazione proprio per rompere quegli schemi, quel cordone ombedicale che purtroppo anche da adulti si tenta a mantenere, soprattutto da parte dei genitori che dai figli. In bocca al lupo per le nuove avventure sportive e soprattutto per quest'estate. Grazie, speriamo che è anche la sensibilità per cui tra l'altro noi stiamo facendo questa manifestazione, oltre che per presentare, far conoscere, interagire con la nostra realtà, anche una raccolta fonte per acquistare un defibrillatore importante, soprattutto per i nostri atleti che sperando che mai ci fosse necessità di un intervento di qualche genere.